Bilancio regionale 2014, qual è la situazione per quanto riguarda il settore dell'agricoltura? Sull'agricoltura ci sono poche idee oltre che poche risorse e questo stride con il fatto che invece in agricoltura occorrerebbe investire perché le ricadute in termini occupazionali potrebbero essere molto positive come mostrano anche gli indicatori e i settori su cui sarebbe possibile ottenere dei risultati. Ma stride anche con la situazione attuale dove ci sono continui allagamenti, dove ci sono dei problemi, dove continuano gli allagamenti anche sugli allevamenti minori nelle campagne dove ci sono state le esondazioni nel centro del Veneto, in provincia di Padova in particolare, ma anche nella Rodigino e anche in provincia di Vicenza per cui da questo punto di vista è veramente offensivo che non si mettano risorse per risarcire gli agricoltori per le perdite di animali che non ci sia un adeguato sostegno al credito, per cui ci sono interi capitoli azzerrati, per cui da questo punto di vista occorre ripensare l'impostazione del bilancio e stabilire le priorità, priorità che non le diciamo noi come opposizione ma le dicono l'oggettività delle cose per cui chiediamo a questa maggioranza di essere conseguente finalmente una volta in un settore trainante e importante come quello dell'agricoltura.